Qui non fa una piega, poi il regolamento è che devo rispondere al contrario della domanda che mi fa Esattamente, cosa succede? Abbiamo un monte premi, guarda lì, quant'è? 250.000 euro Che non prenderai mai Francesco? Mai Perché sono 250.000 euro virtuali, perché come tutte le Olimpiadi, alle Olimpiadi non si vincono soldi, si vince? Una medaglia no? Una medaglia, bravo, le sa già tutte ragazzi Allora, sei pronto? Partiamo? Ti senti carico? Andiamo Mu o beh, come fa la mucca? Oh Come fa la mucca? Allora, no, scusate un secondo te, non farmi fare figuracce Le risposte sono due, certo una è sbagliata, ma se tu ti inventi la terza non ne usciamo Francesco, te lo dico subito Allora Andiamo? Mu o beh, e basta Come fa la mucca? Mu Aspetta Allora, devi rispondere al contrario Come fa la mucca veramente? No No, no Allora, devi rispondere al contrario Allora, devi rispondere al contrario Grazie.